In Sardegna il campanello che darà via il nuovo anno scolastico suonerà per molti plessi il 14 settembre. Questo è il panorama dell'istituto comprensivo Antonio Gramci di Ossi, costituito da 15 scuole dislocate in 6 comuni. Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Tissi e Ossi. Ci stiamo preparando dal punto di vista organizzativo, ci stiamo preparando dal punto di vista anche datico, metodologico. Abbiamo tante sfide che ci aspettano, dei progetti da continuare a portare avanti. Come quello relativo all'approfondimento e potenziamento della lingua inglese, iniziativa che arriva ai suoi circa 760 studenti e che è portato avanti grazie anche al contributo dei genitori. I bambini dell'infanzia fanno fondamentalmente l'alfabetizzazione tramite il gioco. I bambini della scuola primaria fanno ordine inglese in più con insegnanti madrelingua o bilingue con la modalità CLIL. Per i ragazzi della scuola secondaria invece c'è potenziamento ma ci sono anche le certificazioni internazionali. Per i ragazzi delle scuole medie partirà un progetto di fotografia indirizzato a prendere consapevolezza di sé stessi e dell'uso adeguato e controllato della loro immagine sui social. Inoltre dovuto all'alto indice di dispersione scolastica il comprensivo Antonio Gramsci è stato uno dei pochi istituti in Sardegna a ricevere finanziamenti dal PNRR per sviluppare strategie che fermino questa problematica. I progetti del PNRR sono anche questi orientati proprio al recupero e al potenziamento dei ragazzi in difficoltà. Abbiamo avuto 170 mila euro per potenziare le classi ma ne abbiamo avuto quasi 70 mila per fornire un supporto per i ragazzi in difficoltà. Altri tasti dolenti presenti nell'istituto e in generale nelle scuole italiane riguardano sia l'organico dei docenti sia l'organico amministrativo e ausiliario. Quello che ci manca sono gli insegnanti di sostegno. Abbiamo un contingente di insegnanti di sostegno di ruolo specializzati piccolo che è forse il 50% della nostra necessità. I collaboratori scolastici sono pochi e gli assistenti amministrativi ugualmente. Siamo una scuola che fa tantissimi progetti.